Il mio compito è quello di accompagnarvi proprio nell'esplorazione di quelli che possono essere i canali per generare opportunità. La prima domanda su cui ci siamo fatti è ma cosa significa generare delle opportunità? Perché le opportunità possono essere generate a vari livelli all'interno della struttura organizzativa. Io posso essere un'azienda che ha la necessità o la volontà di generare nuovi contatti, quindi di persone che non conosco, di aziende che sono nuove. Quindi l'obiettivo è andare nel mercato, quindi nel grande mare delle opportunità e andare a individuare quelle aziende che sono in target, quindi che potenzialmente, con quelle quali io potenzialmente posso fare business, individuare all'interno di quelle aziende, quello che diceva prima Alberto, quindi le persone che svolgono il ruolo idoneo che io possa contattare per interessarle e cercare di accompagnarle nel loro processo decisionale. Sono aziende e sono persone nuove che prima non conoscevo. Noi incontriamo nella nostra attività quotidiana tante aziende che si presentano già con un database di contatti che nel tempo hanno sviluppato, che però non sono mai stati lavorati, diciamo noi, quindi non sono mai stati ingaggiati e reingaggiati nel tempo. Sono contatti magari incontrati o sviluppati in fiere e durante eventi, per attività di networking. Questi contatti si suddividono, diciamo in maniera abbastanza sparnometrica, in contatti caldi, quindi che automaticamente o in quel momento sono pronti per parlare con un interlocutore commerciale, e contatti freddi, quindi contatti che in quel momento non sono ancora, non hanno ancora espresso, non hanno ancora maturato un'esigenza specifica, ma se sono in target sono contatti assolutamente preziosi perché la possono sviluppare nel tempo. Oppure un altro modo per generare nuove opportunità di business è risvegliare clienti dormienti, clienti con i quali abbiamo fatto business magari qualche anno fa, qualche mese fa, che non hanno più riacquistato, ma che se erano in target e sono ancora, diciamo, attivi nel mercato, possono risultare una nuova opportunità. Infine incontriamo aziende che vendono magari una rosa di servizi diversa, che sono riuscite ad entrare su un cliente con una tipologia di servizio, ma il cliente non sa che l'azienda eroga anche altri servizi o altri prodotti. Generare nuove opportunità significa anche andare a stimolare clienti attivi che acquistano un tipo di servizio, stimolarli appunto su altri tipi di offerta, a cui magari loro possono essere interessati perché coerenti con l'attività che loro fanno. Prima di adentrarci ancora una volta nei quali sono i canali, ci siamo chiesti se individuare i vari canali e segmentare tra loro sia una cosa importante. Per noi la riteniamo molto importante, magari noi siamo viziati da un bias nostro e quindi ci siamo chiesti, ma il mercato, quindi i direttori marketing o gli imprenditori che ogni giorno affrontano il mercato appunto per le loro aziende, lo ritengono importante? Abbiamo individuato una ricerca fatta da HubSpot su circa 150.000 direttori marketing nel mondo, parleremo anche tra un attimo di che cos'è HubSpot, dalla quale emerge appunto che più della metà dei responsabili marketing intervistati ha definito appunto l'attività di Lead Generation come l'obiettivo principale su cui sono ingaggiati su base annuale, quindi hanno budget specifici sia in termini di investimenti allocati sia in termini di risultati che devono portare per l'area commerciale, quindi Lead, persone che sono in target, primo, lavorano in azienda in target, secondo, che hanno espresso un'esigenza specifica di voler approfondire la soluzione che l'azienda offre. I due terzi di questi responsabili sta dicendo anche che vogliono aumentare le attività allocate, i budget allocati per creare maggiori Lead. Questo significa che in qualche modo questa attività per un'azienda è importante. Dall'altra parte però abbiamo, ci siamo resi conto che è anche un'attività complessa, sia perché hanno espresso appunto un commento diretto, hanno dichiarato l'attività molto, la maggior parte di queste hanno dichiarato l'attività come molto difficile, e anche in termini di conversione, quindi su 100 contatti, 100 Lead che io riesco a profilare, quindi che io riesco a ingaggiare, che riesco a incontrare nella mia attività, nel migliore degli scenari riesco a convertirne, dopo un periodo appunto che dipende dal ciclo diciamo di negoziazione che vedevamo prima con Alberto, riesco a convertirne il 20%. 20% è già una percentuale molto alta a livello di benchmark globale. Diciamo che in Italia quello che vediamo noi si attesta tra un 4 e un 8%, quindi vuol dire sui 100 Lead che io ho generato, tra il 4 e il 8%, quindi riesco a generare dai 4 agli 8 clienti attivi. È un mercato, è un'attività competitiva, noi siamo tutti i giorni coinvolti nel creare campagne di advertising a pagamento su Google, su Meta, su tutti i canali necessari e in target per l'azienda. Quello che abbiamo notato è che l'innalzamento del costo necessario per generare un contatto, quindi una persona che ha cliccato un annuncio online e si è profilato su un form, su una chat, su qualunque tipo di punto di contatto digitale, quindi che avete sul sito, è aumentato nel corso di questi ultimi anni di circa il 10% all'anno, passando da 40 dollari che era nel 2021 a oltre 50 che è oggi. Quindi è un'attività costosa ed è un'attività che prevede un mix di azioni che io posso fare per contattare, per riuscire a ingaggiare una persona. Parlando di quello che diceva Gianfranco prima, quindi un metodo più tradizionale per riuscire a ingaggiare una persona, quindi un metodo che è la classica chiamata a freddo, quello che notiamo, quello con cui tutti siamo abituati, è che siamo abbastanza bombardati da telefonate che in quel momento ci stanno disturbando, su cui non siamo pronti, non vogliamo ingaggiarci, quindi non vogliamo dare una risposta e quindi noi le rifiutiamo oppure, come dico io, le rimbalziamo. In questo momento, no, mi devi richiamare più tardi, e cerchiamo di rimandare il problema, perché in quel momento ci sta disturbando quel tipo di chiamata, quindi sembra, a primo avviso, un canale, un'azione inefficace per il target. Vedremo tra un attimo invece come può essere resa proficua ed efficace. Sempre nella nostra attività quotidiana, notiamo che molte aziende all'inizio della collaborazione non riescono a misurare l'efficacia dei vari canali. Faccio chiamate a freddo? Benissimo, è un canale, ma quali sono i risultati? Quanti lead riesco a generare? Quante opportunità, quindi quanti appuntamenti riesco a generare? Quanti di questi appuntamenti nel tempo si trasformano in clienti? Parimenti, se vado sui canali digitali, o è il canale da LinkedIn riesco a generare un'opportunità che arriva magari nel migliore degli scenari, all'interno del CRM aziendale, poi però chi la gestisce? Chi è in tavola della negoziazione? Che fine fa con la negoziazione nel tempo? Quindi va a buon fine o non va a buon fine? E quindi qual è il tasso di conversione di un canale a caso come può essere LinkedIn? Qualcune aziende stanno ancora faticando nel riuscire a mettere insieme i punti di KPI, quindi gli indicatori di performance tra i vari step di negoziazione.